Fallo l'improvvisazione come abbiamo sempre fatto che ti riescono sempre meglio Cioè di quando ci prepariamo tutto Ma se vuoi stai eh Sto così, un braccio Ah scusate mi sono dimenticata di dirvi Devo togliere il braccio di Virginia Che era così a fare il braccio Scusa Che mi spavento un po' No aspetta ti sta venendo la merda Esatto Ciao ragazzi No aspetta che c'è la mia mano in campo E toglie Geniale C'ho la fascia che mi compie Scusate la tosse E' una tosse in plebe Ma non proprio che non Scusami Ok Per primo Mi ha avuto lo sbadiglione Buonissima Sputa Scusate Ciao ragazzi Allora scusate Primo di tutto Se ho fatto così un po' di rutti Però vabbè Avevo mangiato tutti i pasticconi Allora Era molto buono Ma faceva fare I rutti Già che siete qua In pratica Così Non smettete di guardare Questi videini No Videini Videus Perché è plurale E fate anche il click Sugli altri videini Videos Che ci sono Sulla cosa che vedete No? Che ci sono i quadratini Ecco se voi ci cliccate sopra Vedete proprio altri vide Vidi Videus Del trio Cantù Niente Spero che vi piaccia E Iscrivetevi al canale Oh che E' bello Ciao Ciao